Ciao Elena Ciao Lei è dolcissima, sei giovanissima, hai 13 anni Sì sì Hai due occhi dolcissimi E mi è spiaciuto perché non sono riuscita a fotografarli bene Perché giustamente nel leggere la poesia avevi sempre l'occhio posto sull'eggio Però hai due occhi bellissimi e uno sguardo bellissimo Grazie Io ho sempre voluto che qualcuno notasse i miei occhi Perché penso sia la parte migliore di me E sono molto espressivi Anche perché quello che hai portato sul palco questa sera è tu Nuda e cruda Sì infatti E vabbè mi dispiace però a me va bene così Ma l'importante è provarci È la prima volta che portavi le tue poesie a un pubblico Quindi è un po' strano Hai rotto il ghiaccio Ti auguro che sia la prima di una lunga serie di occasioni Grazie, grazie Grazie a te